Jared Leto Jared Leto interpreterà Hugh Hefner nel film biografico Jared Leto è attualmente uno degli attori più richiesti di Hollywood grazie a un talento che lascia tutti di stiucco. Ha 45 anni, e con una favolosa carriera musicale alle spalle, le sfide per lui non sono che appena iniziate. . Il suo prossimo ruolo? Quello di Hugh Hefner, il leggendario fondatore di Playboy, nel film dedicato alla sua vita. . Jared Leto, signore delle conigliette. Mentre Hollywood non si è ancora asciugata le lacrime, e tanti compiangono l'amato direttore della rivista per uomini Playboy, la industria sta già lavorando per rendere omaggio ad uno dei maestri moderni del piacere. . . A dare l'annuncio del film è stato l'Hollywood Reporter, che ha divulgato anche qualche succoso dettaglio sul cast. Il regista sarà Brett Ratner, 48 anni, celebre per la serie di Rush Hour, Red Dragon e Tower East colpo ad alto livello. . . Il progetto, che si trova ancora allo stato embrionale, sarà sviluppato dalla Ratners Rat Pack Entertainment e conta tra le sue file un protagonista di tutto rispetto, Jared Leto, che indosserà la vestaglia di seta a bordo di Hugh Hefner e ci regalerà sicuramente una pellicola dall'alto potenziale d'intrattenimento. . . Jared è un vecchio amico, ha raccontato il regista, Brett Ratner. Quando ho saputo di aver ottenuto i diritti per raccontare la storia di Hef, mi ha detto che voleva interpretarlo. . Che voleva riuscire a capirlo. E sono del tutto sicuro che Jared Leto lo possa fare. . È uno dei migliori attori dei nostri tempi. Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare del film sulla vita del fondatore di Playboy, ma da poco le voci sono state confermate e finalmente Hollywood potrà prendersene cura. . . Anche il produttore, Jerry Weintraub, che ha curato pellicole del calibro di Ocean Seleven, era interessato al progetto. Quando è però venuto a mancare, nel 2015, è stato Ratner a prendere il suo posto. . . Il mio obiettivo è quello di trasformare il film in un evento, ha raccontato Ratner, che ha conosciuto Hefner e lo ha frequentato in più di un'occasione. Dal canto suo, Jared Leto non ha mai avuto l'occasione di incontrarlo e dovrà cimentarsi in questa interpretazione un po' alla cieca. Per il regista, questo non costituirà un problema. . Esistono moltissime riprese di Hugh Hefner, e con una sana dose di ricerca Jared Leto sarà in grado di carpire tutte le informazioni che desidera ottenere. . . Dopo il grande successo di Suicide Scud, Leto tornerà brevissimo sul grande schermo grazie a Blade Runner 2049, con Harrison Ford e Ryan Gosling, in uscita tra qualche giorno. . 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